Perché ci serve, è una delle più potenti riforme economiche che possiamo fare e sapete qual è l'altra potentissima riforma economica che vogliamo fare? La riforma costituzionale. Non vi fate prendere in giro e vado alla conclusione. Vi diranno che non è una priorità, ma non è una priorità fare la riforma costituzionale. Ve lo diranno quelli che sono stati al governo di questa nazione con i giochi di palazzo, perché hanno paura di una riforma che rimetta il potere di scelta dei cittadini al centro delle dinamiche. È esattamente la riforma che noi faremo, perché vogliamo due cose, governi stabili che abbiano cinque anni per terminare il loro lavoro e governi scelti dai cittadini che decidono così le politiche che si possono portano avanti. E sapete perché è una riforma economicamente importante? Perché aver avuto governi che immediatamente duravano lo spazio di un anno e mezzo o due anni ha significato in Italia. Non avere una strategia su niente. È evidente che quando il tuo orizzonte è corto, beh, tu privilegi sempre quello che ti torna immediatamente, ma non sempre quello che ti torna immediatamente, è anche la scelta più solida che puoi fare per la nazione. E così noi abbiamo sempre privilegiato la spesa corrente rispetto alla spesa per investimenti, che ha un moltiplicatore molto più alto. E non abbiamo una strategia industriale, non abbiamo mai deciso che cosa volevamo fare nel mondo, chi volevamo essere. È stato il risultato di quella roba lì. Basta che guardate che cosa è successo con i nostri vicini di casa, no? Le altre due grandi democrazie dell'Europa occidentale, la Francia, la Germania. Nei primi vent'anni di questo millennio in Francia ci sono stati quattro presidenti della Repubblica, in Germania tre cancellieri, in Italia non contiamo i governi che si sono susseguiti. E guardate i dati economici. Negli stessi vent'anni l'Italia è cresciuta a meno del 4%, la Germania e la Francia a più del 20%. Dare a questa nazione governi scelti dai cittadini per realizzare una visione e cinque anni per realizzarla è la cosa che rimetterà l'Italia esattamente nella posizione che merita. E se il Parlamento non vorrà approvare con i numeri che servono una riforma di questo tipo, sarà ai cittadini che lo chiederemo con il referendum. Perché qui noi non ci stiamo per sopravvivere.